ciao a tutti mazzo di carte una carta scelta immaginiamo questa ok me la mostro mi raccomando ricordate la e la perdiamo così nel centro ora che cosa faremo con queste carte le mescoleremo così faccia e dorso in questo modo facendo un vero e proprio caos così così ok si vede ben mischiato quindi faccia e dorsi faccia e dorsi possiamo anche perdere nel centro questo vedete dove si taglia abbiamo il caos ma basta un attimo è lei non è lei è lei ma possiamo provare di più attenzione perché basta passare la mano e quello che accade questo il mazzo torna tutto perfettamente in ordine ciao a tutti